E ciao a tutti ragazzi, oggi un nuovo video su football Abbiamo una sfida con l'Inter in cui dobbiamo segnare almeno un gol Quindi procediamo subito e vediamo un po' chi possiamo mettere Allora c'è TD 98 che sta bene, io lo metto lo stesso Rinuncio a 99 e va bene così, Yuya sta bene Yuya contro l'Inter sarebbe proprio il top Vabbè però Donna Roma è Donna Roma ragazzi Vabbè ce lo metto lo stesso a Yuya e iniziamo Ed ecco qua, iniziamo con la partita Cioè Beck and Bauer è veramente imbattibile ragazzi comunque Attenzione Ronny ci prova subito, ci prova subito il Ronny E' uscita, è uscita qua raga, va bene Attenzione Ronny Mamma mia che golasso, ci regala sempre le grandi emozioni Ronny Grande Ronny Verso i 400 gol con questo Ronaldo ragazzi Vabbè, Vabbè cercherà il cross, vediamo un poco E tiro cerca, vuole cercare niente però, non ce l'ha fatta Era un fuori gioco, qua va bene, va bene Mamma mia che rischio qua, stava facendo una papera E' uscita il pallone all'avversario con una magia Sceglie di andare per vie verticali Si assicura di non far correre rischi al portiere Provano a partire in velocità Cerca il movimento di sua in profondità Che Hernandez la mette in mezzo Arriva sulla palla e interrompe l'azione Cristiano Ronaldo, autore di una rete in questa partita Prova a superare la difesa con un filtrante Prova a imbeccare lo scatto sul fondo Grande giocata difensiva Cristiano Ronaldo Iniesta Cerca un'azione veloce Sulla destra Mohamed Salah La difesa è invalicabile oggi Eeeh, questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio Botta in risposta tra bella iniziativa offensiva E la giusta contromisura Ruben Diaz Errore qui, pallone sprecato Pezza Palla filtrante per Cristiano Ronaldo Ci ho provato con il Ronny Niente, niente di che Per impegno e tecnica Questo contropiede meritava un esito migliore Rovina la festa agli avversari Intercettando il pallone Cerca il movimento di sua in profondità Billingham Una bella giocata nello spazio Ci sarà un minuto del gioco Allarga in gioco con pallone a sinistra Prova a superare la difesa con un filtrante Se ne va Può venire una volta da lì Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco Attenzione, Ronny Da fermo quasi, ci ha provato C'è una potenza, quello, incredibile Attenzione, attenzione, attenzione Mamma mia Mamma mia Quasi Un'altra azione in copertura Mbappé La gioco in profondità Grande movimento nello spazio Palla dentro di James Attenzione, Nedved Lo sapevo, lo sapevo, raga Ed entra anche questa Dei Pavel, Nedved Grande Dei Pavel Siamo su 2-0 E abbiamo una bella punizione da qua Beckenbauer ci ha 92 di punizione Anche James Boh, provo con... Ah, con James 93 Mamma mia Voglio provarci, ragazzi Voglio provarci Voglio vedere cosa viene qua Attenzione Niente Niente da fare Attenzione Ed ecco qua Rio è gol di Bappé Così Fatto a caso proprio Eh, ci ha fatto il gol, ragazzi Ci ha fatto anche lui Qua Ho perso un poco di concentrazione Quindi Ci sta tutto, dai Ci sta tutto Mamma mia Cioè Ogni tanto Qualche giocatore Sorprende con queste serpentine E finisce qua Su 3-0 Ragazzi Ottimo Ci siamo portati a casa Anche questa partita Vabbè 10 tiri Due tiri suoi Un gol Vabbè Non combattutissimo Comunque Va bene così Ragazzi È importante che l'abbiamo vinta Come sempre Vi ricordo di iscrivervi al canale Per essere aggiornati Sempre sui prossimi video Che ci saranno in programma E ciao a tutti